Il treno regionale 22474, partito dalla stazione di Reggio Calabria Centrale alle ore 6.12 e diretto a Catanzaro Lido, ha interrotto la sua corsa questa mattina alle 8.05 circa nella stazione di Monasterace a causa di un incendio. I viaggiatori hanno avvertito un forte odore di bruciato e scorgendosi dal finestino nei pressi dell'abitato di Riace, hanno visto un denso fumo nero, poi l'allarme e lo stop della corsa, l'evacuazione in emergenza e l'intervento degli addetti con estintori ha evitato il peggio. I passeggeri, nessuno per fortuna intossicato dalle esalazioni, sono rimasti fermi nella stazione di Monasterace per oltre un'ora in attesa del treno successivo che li portasse a destinazione. Per oggi è andata così una brutta paura ed un forte disagio, specie per chi si recava al lavoro o doveva prendere altre coincidenze. I pendolari, per come ci hanno riferito, non la faranno passare liscia a FS, chiederanno il rimborso del biglietto ed eventuali danni cagionati dal ritardo.